ora limoncini siamo tornati perché avevamo vinto i ricci marini e quindi eravamo un attimo scappati ma adesso faremo la seconda esplorazione e vi giuro che non sono relizi del titanic aspetta neanche dell'olimpic e del britannic ora andiamo limoncini com'è? come limoncini? infatti voi siete al mare o la vostra vacanza dura fino a settembre e poi ricomincia settembre cioè voglio sapere l'avete visto? è gigante Harry Potter, vuoi tornare alla scuola di magistra e goneria quest'anno? c'è il covid galleggia, galleggia, mamma galleggia grazie